Buonanotte Gambali, ecco Voilà Sono tutto bello di ferro Ho preso anche il pezzo in più Nemo tutto, dai Chissene frega Cosa? Uh, hanno preso, hanno aggiunto le ceste Se vado là morirò sicuramente Lo sento, però Se no dopo dura troppo, quindi Quindi tanto vale che ci andiamo Poi sono anche armato bene Qualcosa potrei combinare Aspetta, vediamo Le coordinate, vi ho detto, sono X355 Allora, X Ah, siamo già qui, quindi E invece Y No, Z Z F3 No, no, ma che è F3 questo Z 120 Bene, Z120 Z120 147 Di qua no Di qua Di qua? Sì, di qua sì Z120 Bisogna andare di qua Beh, è vicinissimo Dovrebbe essere dopo questa montagna In teoria 120 120 Di farmi male Ecco 300 Vabbè, tanto quando ci arriverò Ci sarà più niente Giusto per farmi uccidere Saltiamo sugli alberi Ma sì, così ci vede qualcuno 300 300 Uh, c'è qualcuno lì Mi sa che lo andrò a uccidere Non mi sa Andrò a ucciderlo No Premuto Shift Sì, cadiamo lì dentro Chi se ne frega Sì, cadiamo lì dentro Sì, cadiamo lì dentro Sì, cadiamo lì dentro Beh Ma Cosa ho fatto questo È invisibile No Mi sa di no Cioè io lo sento mangiare Vabbè bene Torniamo le nostre coordinate Allora Abbiamo detto 200 Ma io cosa sto facendo Mi sto allontanando Mi sto avvicinando Voi ci state capendo qualcosa Hai sentito Sento troppi rumori Basta me ne vado Posiamo queste Acqua smerdata Bene Sono da questa parte Uh manca un albero Alberi ripiantati 20 giocatori Eccolo Mica sono scemo Cosa credi Ma quanti secchi di lavare Ah mi sa che c'è a prendere Invece sono scemo Vabbè Per oggi è tutto Mettete un mi piace Se vi è piaciuto E eventualmente iscrivetevi E fatemi sapere Nei commenti Se volete altre puntate Di Hunger Games Oppure preferite Altre cose Quindi ci vediamo E ciao a tutti